Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi inizia la quindicina in onore dell'assunta. È cosa buona prepararci a questa solennità con un periodo di preghiere e di fioretti. Gli ortodossi vi dedicano addirittura un'intera quaresima che santificano con preghiere e digiuni. Questa quaresima veniva fatta un tempo anche da noi in Occidente. Per fare solo qualche esempio, San Francesco d'Assisi e San Paolo della Croce facevano questa quaresima in onore della Madonna. Il Papa Pio XII, in seguito alla proclamazione dogmatica dell'assunta, ripropose una quindicina di giorni di preghiera in suo onore. Durante questa quindicina vogliamo pregare la Madonna con più fervore e con più fiducioso abbandono, meditando sulle sue grandezze e offrendole qualche fioretto. Le meditazioni di questa quindicina saranno prese dal Santo del Giorno e da qualche testo di spiritualità mariana. Iniziamo a parlare del Santo del Giorno che oggi è Santo Alfonso Maria di Liguori. Nacque il 27 settembre del 1696 a Napoli dalla nobile famiglia di Liguori. Ricevette dai suoi buoni genitori un'educazione santa ed energica a cui il piccolo Alfonso non mancò di corrispondere, conservando per tutta la vita una predilezione speciale e un vivo sentimento di riconoscenza verso sua madre. Con uno studio accurato ottenne la laurea di avvocato a soli 16 anni. Dopo aver esercitato con brillante successo la sua professione per parecchi anni, per un errore commesso involontariamente nel trattare una causa in tribunale, rimase talmente scosso che decise di abbandonare il mondo per seguire la voce di Dio che lo chiamava il sacerdozio. Tale cambiamento non era facile, numerose difficoltà gli si paravano innanzi, era nobile, di ottime qualità, abile nella professione, amava con grande affetto la sua famiglia ed era da essa riamato, ma egli rimase immobile nel suo proposito. Divenuto sacerdote, si esercitò nella predicazione popolare e nell'insegnamento del catechismo. A tutti rivolgeva la sua parola semplice, caritatevole, senza ricercatezza, e per predicare il Vangelo ai poveri fondò la congregazione religiosa dei Redentoristi. Fu autore di molteplici opere letterarie, teologiche e di celebri melodie natalizie, tra cui la famosissima Tu scendi dalle stelle. Nel 1762, a 66 anni, fu eletto Vescovo di Sant'Agata dei Goti, esercitò l'Episcopato con grande zelo, facendo di tutto per estirpare il male e salvare le anime. Dopo 13 anni, colpito da gravi malattie, domandò e ottenne di essere esonerato dall'Episcopato e ritornare nel suo istituto. Morì il primo di agosto del 1787 alla veneranda età di 91 anni. Illustre per virtù e miracoli, il sommo pontefice Gregorio XVI lo annoverò nel catalogo dei Santi e Pio IX lo dichiarò dottore della Chiesa. Fra le continue occupazioni della sua vita sacerdotale ed episcopale, trovò modo di scrivere numerosissime e importanti opere, fra le quali è celebre la teologia morale in diversi volumi. Molto popolari e utili alle anime sono il gran mezzo della preghiera, le visite al Santissimo Sacramento, la pratica di amar Gesù Cristo e le glorie di Maria. Con quest'ultimo libro, Le glorie di Maria, Sant'Alfonso ha diffuso la devozione alla Madonna nella Chiesa, reagendo a un'ondata di minimalismo mariano che serpeggiava a quei tempi. Il libro delle glorie di Maria vuole essere un commento alla preghiera della Salve Regina e il tema principale sul quale Sant'Alfonso spesso ritorna è la mediazione universale di grazia di Maria. Tutte le grazie vengono dal cuore di Gesù ma passano tra noi e Gesù per il cuore e le mani di Maria Santissima. Sant'Alfonso dava una grandissima importanza alla preghiera del Rosario, sempre preoccupato della sua perseveranza Sant'Alfonso analizzava tutti i segni che poteva avere di essere fedele sino alla fine e vedeva che tutti sono difettosi in qualche cosa e concluse che non vi è dunque se non un solo segno di perseveranza la preghiera continua. Poi si turbò nuovamente e si domandò pregherò io sino alla fine? Non sarò un giorno infedele o negligente nella preghiera? A questo nuovo timore si gettò nelle braccia della Madonna e le disse Madre amatissima dammi il pensiero e la voglia di pregarti sempre «So che tu sei tanto buona che se per colpa mia cessassi di invocarti mi forzeresti a farlo per non vedermi perso». Il ricorso continuo alla Santissima Vergine era dunque la conclusione di tutta la teologia di questo Dottore della Chiesa di Sant'Alfonso Maria degli Liguori il punto centrale di tutto il suo ascetismo. Quando arrivato alla sua estrema vecchiaia non si ricordava più se aveva detto il rosario lo domandava al frate infermiere Un giorno questi gli disse «Vorrei avere tutte le corone che vostra paternità ha recitato in più oggi» Allora il Santo prese un'aria grave e rispose «Fratello, non scherzare non sai che dal ricorso al rosario dipende la mia salvezza eterna? Grande verità dal ricorso fedele alla Madre nostra dipende definitivamente la nostra salvezza e la nostra santità Impariamo da Sant'Alfonso a invocare sempre con fede ed amore la Madonna con la meravigliosa preghiera del Santo Rosario E ora, cari fratelli e sorelle terminiamo con la preghiera rivolta alla Madonna O Vergine Immacolata Madre di Dio e degli uomini noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e corpo al cielo dove sei acclamata Regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi Ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e per offrirti il nostro omaggio e il nostro amore Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte Maria Santissima assunta in cielo in anima e corpo prega per noi Sì Ciao Sì Grazie a tutti.